Ciao mamma! Ciao piccola! Com'è andata oggi a scuola? Bene, la professoressa ci ha spiegato l'importanza della fissatezza. La professoressa ha ragione. Vabbè, vuoi andare al cinema? Ma te ci hai mai pensato? Quante volte vai al cinema? No. Andavo a chiedere anche ai tuoi amici. Ciao Azzu, che fai? Niente, sto messaggiando. Ah, tu sai quando devo andare al cinema? No, non c'è mai qualche cosa. Vabbè, non importa. Ciao! 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 Ti chiedi di qualche utilizzo di fatto che vai al cinema? No? Quanto tempo ti connette di internet? Non lo so! Allora consulti i tuoi amici che conoscono i dati della nostra regione. Sei con gli altri? Sì! Allora potete venirmi a dire i dati della nostra regione per capire per quanto mi connetto ad internet? C'è chiesto il nostro amico se possiamo andare da lui a dire i dati della nostra regione per capire quanto usa internet. Andiamo, andiamo. Ok, veniamo. Sei che il 55,4% della popolazione usa internet tutti i giorni? Il 13,5% della popolazione usa internet una o più volte a settimana. Il 2,4% della popolazione usa internet una o più volte al mese. Il 13,6% della popolazione usa internet una volta all'anno. Mentre il 13,6% della popolazione non usa internet. Ora che capite quanto si connette di internet. Andiamo a giocare a pallone! Il 13% della popolazione della Toscana pratica sport in modo continuato. Questi sono alcuni esempi. Il 32% della popolazione della Toscana pratica sport in modo saltuario. Il 13,6% della popolazione della popolazione della Toscana non pratica sport.